Che fenomeno è Wobboot Van Aert? Che fenomeno è? Ha vinto la quinta tappa, anzi la quinta tappa del Delfinato in volata, in maglia verde. Il fenomeno del ciclo cross ha vinto un'altra volta, un'altra tappa, al giro del Delfinato, quinta tappa. Tappa che era una tappa per velocisti, che è stata animata soprattutto dalla fuori di tre uomini, con un corridore della Vital Cosmet, che non mi ricordo in questo momento il nome, forse Buda, non ricordo. Poi il rossetto della Cofidis e il corridore invece facente parte della CCC era il nostro Alessandro De Marchi. Sono stati ripresi loro un chilometro e mezzo dalla conclusione, quindi davvero hanno fatto una fuga davvero molto molto lunga. E poi ragazzi ci hanno provato all'ultimo chilometro Phil Prigilbert e Edvald Boastonhagen, team Quickstep e team Dimension Data. La squadra di Venet comunque ha comandato le operazioni per la volata con Archbold e con Buchmann, però sono riusciti sia a riprendere i due fugaioli, quelli che hanno tentato di fare la fagianata, però non è riuscito a fare un'ottima volata a Sam Bennett. La vittoria è andata a Wout Van Aert, ora ho fatto subito il video, infatti non ho visto anche i piazzamenti né niente. Colbrelli era messo bene, però poi all'ultime posizioni ha perso posizioni dai vari Venturini, da Lorenzo Manzin, cioè da... c'è ovvero il velocista della Vital Concept, oltre che da altri velocisti anche dalla Filippa, era già davanti in realtà. Comunque ha sprintato alla Filippa e non ha sprintato oggi, è assurda come cosa. Ragazzi per questo video molto breve è tutto, like, iscrivetevi e noi ci diamo a un prossimo video. Grazie.